Vediamo con costanza una frequenza che questo momento e questa fase di costruzione della nuova stagione richiedono, quindi abbiamo parlato della definizione della struttura societaria e della pianificazione del futuro, ma è stata un'interlocuzione informale, quindi niente di particolare, niente di particolarmente nuovo rispetto a quello che già è stato comunicato, si sta lavorando e continueremo ovviamente in questa direzione, ciascuno nel proprio ruolo.